Flavia Siamo qua con Flavia che oggi interpretava Berthe, la bella e la bestia per straggio Disney, infatti ha vinto come miglior per straggio Disney, giusto? Sì Beh, Dimmi, te l'aspettavi questa vittoria? Decisamente no, perché è il mio primo Comic Con Ma te l'aspettavi? È il mio primo cosplay E te l'aspettavi qualche altro premio, qualche altra vittoria e pur non hai proprio niente? Nulla Ci le premio, ci le premio Cosa? Ok Quanti stavo per andarmene e ho detto che aspetta fare le decisioni, tanto è inutile Come ti senti dopo questa vittoria? Felice sicuramente, però non lo so Hai detto che è il tuo primo cosplay, è il tuo primo Comic Con, giusto? Quando la gente ti riconosceva e ti fermava per strada, come ti sentivi durante la giornata? Tipo una star, non lo so, non te lo so spiegare E quando oggi mi ha venuto e ho detto che sei bellissima e vinci tu, ci credevi? No, decisamente Perché faccio un saluto a PincaTV Ciao, un bacio Ancora un bacio piccola Ok, sono gentilissima, grazie a tutti Grazie, ciao Siamo qua con Angelica Ma che male Che hai organizzato tutto tu qua Ma che male Siamo qua ancora con Angelica del Cosmovies, giusto? Cosmovies Una delle organizzatrici di questa presto pagata cosplay Prima è stata difficile, diciamo, gestire No, è gestore Gestire sono abbastanza folle Però ce l'abbiamo Hai un botto di cosplay davanti, avevi, giusto? Hai un botto di cosplay davanti, avevi Esattamente tanti Dai, aspetta un minuto Come ti è sembrato questo Comic Con 2014? No, dai, l'intervista non lo voglio, però Ok, la tagliamo qui